e soprattutto per far cessare questo brutto momento che va a identificare soggetti e a mettere in luce soggetti che sono già pericoli per loro natura. Dopo l'aria apertura delle scuole e dunque il ritorno a una vita più regolare per molti giovani arriva anche un'ordinanza del sindaco a smorzare gli effressi della vita notturna a Chietiscalo. Due episodi violenti solo a settembre, un'aggressione e una rissa, continui reclami dei residenti e anche denunce sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Devo ringraziare il signor sindaco perché ha immediatamente compreso quali erano le nostre ragioni. Diciamo che è stato valutato questo innalzamento delle tensioni che si sono create presso alcuni locali a Chietiscalo in orario post-mezzanotte, dove praticamente questa attività di prevenzione da noi possa inessere con pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nonostante la loro presenza non siamo riusciti a infrenare questo fenomeno. La Questura ha già identificato i responsabili e applicato il cosiddetto DASPO-Willi. Ulteriori provvedimenti saranno decisi dall'autorità.